Silvana Comaroli, il Governo chiede che il Parlamento retifichi lo spostamento del pareggio di bilancio al 2016. Che cosa ne pensa la Lega Nord? Sì, è una cosa un po' ridicola, soprattutto se guardiamo le motivazioni per cui è stato spostato. Come ha detto stamattina il Ministro Padua, servono per pagare i debiti di alcune regioni. E allora noi non capiamo come mai la nostra regione Lombardia paga i suoi debiti a 17 giorni e a 60 giorni i debiti della sanità. Mentre non si capisce come mai invece tante altre regioni, e guarda caso del sud, le pagano addirittura a quasi due anni di distanza. Che poi adesso tutti noi dobbiamo fare ancora ulteriore debito per andare a pagare questi debiti, per noi è una cosa fuori di testa. E voteremo convintamente no. Voterete no anche perché nel complesso questo documento di economia e finanza proprio non vi piace? Ma no, no, perché non risolve i problemi. È un def di paravento, di efficacia di un giorno, giusto per raccogliere consenso elettorale. Ma non ci sono quelle riforme strutturali vere che servono. E soprattutto un'altra cosa che dispiace moltissimo, come ha rilevato lo stesso Ista, la disoccupazione aumenterà. Quindi vuol dire che questo governo, il lavoro, il lavoro di tante persone che sono in cassa integrazione o addirittura hanno perso il lavoro o degli stessi esotati, non gliene frega nulla. Noi invece, convintamente, l'abbiamo ribadito anche nei nostri interventi, il lavoro deve essere il perno centrale di tutta la nostra economia. Ma questi 80 euro in busta paga ci saranno o non ci saranno? Vediamo le promesse, a quanto ha detto il governo, dice che ci saranno, ma la cosa vergognosa è che da una parte magari riusciranno a dargli anche questi 80 euro, però li tireranno fuori da un'altra parte, perché basta vedere solo le varie rimborsi fiscali che hanno diritto per le spese mediche, per tutto e quest'altro, verranno ridotte drasticamente. E anche questa qua, ti do da una parte e te ne tolgo dall'altra, ridicolo.